Un cordiale saluto a tutti voi, ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV, siete sintonizzati come sempre sul canale 17 del Digitale per il consueto appuntamento con l'informazione di prima mattina, 7.30 con i giornali belli freschi di stampa, tutti da leggere. Lo faremo tra poco con i titoli delle notizie più importanti del giorno. Prima il calendario con il santo di oggi, oggi è Sant'Abbondio Vescovo, il sole è sorto alle 6.25 e tramonterà alle 19.51. L'immagine come sempre della nostra webcam che punta sulla parte nord-est della città di Fano. Ci mostra una giornata che inizia con la solita, il solito cielo piuttosto sgombro d'aria e nuvole, però qualche velatura in lontananza. 10 gradi e mezzo è la temperatura quest'ora del mattino. Allora andiamo a vedere adesso invece le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Oggi la giornata sarà serena con poca nuvolosità, le temperature in lieve aumento nei valori massimi. Per domani giovedì invece aumenterà un po' la nuvolosità con la pioggia che invece sarà la protagonista di venerdì 17 aprile, in particolare nelle zone dell'entroterra. Infatti avremo deboli precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio in esaurimento dal primo pomeriggio con cielo inizialmente che sarà nuvoloso con diminuzione della nuvolosità. Come dicevamo nella seconda parte della giornata, in ulteriore leve aumento la temperatura per la giornata di venerdì, i venti saranno di brezza tesa. Indicazioni di tempo stabile per il fine settimana e l'inizio della settimana seguente. Allora andiamo adesso a leggere i giornali, cominciamo dal resto del Carlino. La pagina di Fano apre con l'approvazione del bilancio. In giunta un bilancio, dicono i ben informati, per il quale nessuno degli assessori ha alzato la voce, tutti consapevoli che procedere per dodicesimi, come si sta facendo ora, non è vantaggioso per nessuno. E poi l'assessore Cecchetelli, che vedete in questa fotografia, assicura i fanesi, appliceremo le aliquote dello scorso anno, un bilancio senza aumentare le tasse e senza andare a cercare soldi nelle multe, multando gli automobilisti indisciplinati, quelli che non rispettano le regole. È una riunione, una riunione fiume che si è tenuta lunedì sera fino all'una e mezza di notte, dove appunto gli assessori che hanno deciso di mantenere il silenzio con la stampa per non far trapelare nulla fino almeno venerdì mattina, insomma hanno discusso ognuno, ciascuno degli assessori, ognuno per la propria delica e quindi per il proprio ufficio. Poi un bilancio, dicevamo, dove si è parlato anche di manifestazioni, per esempio la Fano dei Cesari, che potrebbe essere a questo punto messa in discussione, perché la Corsa delle Bighe e tutto il colorlario, per organizzarla servono 130 mila euro, 70-80 mila dei quali a carico del Comune di Fano. Sembra però che dall'ente pubblico non potranno arrivare nemmeno 50 mila euro. Allora, visti i tempi, secondo me è anche troppo, nel senso che ci sono altre priorità e le manifestazioni vanno organizzate non dal Comune, ma da altri soggetti. Il Comune deve fare il Comune, deve pensare sui cittadini, non organizzare le feste o organizzare cose, anche se importanti, che portano sicuramente gente e quant'altro. Però bisogna pensare ad organizzare chi fa poi queste manifestazioni e non il Comune in primis che poi ci mette i soldi. E la Fano dei Cesari potrebbe diventare un brand, come il Carnevale di Fano, che può dare anche, può produrre profitti. Allora facciamo organizzare chi di competenza. Invece Tiziana Petrelli questa mattina racconta sul resto del Carlino di queste auto danneggiate, e sono le auto abbandonate del Comune di Fano. Sprechi assurdi, 80 mezzi pagati dai cittadini. Sono le auto che stanno lì e che, vedete, hanno subito sfregi, danneggiamenti, eccetera, eccetera. Sempre Tiziana Petrelli racconta invece di un altro fatto, cioè la Scimiter, lo Scimiter, che è quella ex nave da guerra inglese che è diventata un ristorante, a dire la verità, ha avuto poca fortuna fino adesso, ma perché fino adesso è stata nascosta. E è stata nascosta, sì, nascosta. Adesso invece che per questioni di sistemazione della barca è stata portata vicino alla strada, quindi dove dovrebbe essere, secondo me, lo Scimiter e il Curvone. Adesso c'è qualcuno che si lamenta. Non tanto, scrive questa mattina il giornale, non tanto i commercianti, che tutto sommato commercianti della zona sono contenti perché l'attività dello Scimiter porterà ulteriore movimento in quella zona, ma alcuni purtulot, scrive qua la Petrelli, alcuni purtulotto, dannata, i certuni residenti conservatori, negli ultimi giorni borbottano più di un pentolone di fagioli in cottura. Bella questa espressione, però che fa capire, perché dicono copre la visuale dell'imboccatura del porto. Ma cosa c'è da vedere al porto? Non c'è niente da vedere al porto. Il nostro porto è brutto, non c'è niente da vedere. Dietro lo Scimiter ci sono i capannoni, pensate voi, neanche il porto turistico. Se non ci fossero stati i capannoni, col porto turistico dietro, forse avrebbero avuto ragione. Ma ci sono i capannoni, quindi lasciate lì lo Scimiter e speriamo che invece abbia più fortuna. Piscina della Trave, rischio la fideiussione di 590 mila euro. Questa piscina della Trave che non è stata mai realizzata. Adesso c'è questa fideiussione di cui il Comune avrebbe richiesto l'escussione e ai cui soggetti sottoscrittori si sarebbero posti in corso una causa civile. Però adesso, come si legge, è a rischio. Soccorsi tempestivi per Davide, inevitabile la tragedia di Miami. Ricorderete questo giovane Davide Bronzini, qui vedete con la moglie Sonia, che è rimasto ucciso nella notte tra il 19 e il 20 marzo scorso, mentre stava tornando a casa, era di notte, lui era a bordo di una moto, si scontrò con una macchina. Oggi parla il cugino Nicola Cecchini, il cugino materno di questo trentenne marottese che stava a Miami dove aveva fatto a lungo il cameriere e poi dopo era riuscito ad aprire un suo ristorante, il Cavatappi Cibo e Vino, purtroppo si è scontrato con questa macchina e adesso il cugino ci dice e racconta che potrà la sua salma rientrare in Italia. È una questione di giorni, quindi dovremmo esserci ormai per dare l'ultimo saluto anche in Italia a questo giovane sfortunato. Inchiesta CPL Concordia, perquisizioni nel decreto il nome del direttore commerciale della cooperativa che abita a Fano, sia nella sede della Coop, sia a casa di Andrea Ambrogi. I PM verificano i versamenti. La Guardia di Finanza ieri ha tenuto una conferenza per fare il bilancio dell'anno che si è concluso, triplicato il ricorso al lavoro nero, scoperti 67 sconosciuti al fisco, tra gli avasori totali, un agente di commercio che viaggiava su un Audi A6. Anche nel 2014 è il taglio di banconota falsa più diffuso, la carta da 20 euro, seguite poi da quella da 50 e da 100 euro. Poi il Corriere Adriatico, Lucia Annibali, cittadina onoraria di Parma, è stata conferita ieri pomeriggio la cittadinanza onoraria di Parma. Lucia Annibali, la giovane avvocatessa di Urbino, sfregiata con l'acido esattamente due anni fa, nell'aprile 2013, quando aveva 35 anni da due uomini mandati dall'ex finanzato e che è stata curata presso il Centro Grandi Ustionati di Parma, città nella quale ha vissuto gran parte degli ultimi due anni. Anche qui poi a centropagina il lavoro nero, un'emergenza in aumento e poi dall'altra pagina del Corriere Adriatico, sempre da Pesero, in prefettura, memoria, tra storia, luoghi e spettacoli, è stato presentato il calendario degli eventi di aprile e di maggio dal Tedoforo in piazza alla mostra di Cagli. Dalla pagina di Fano, in mare i fanghi dell'imboccatura del porto, il Sindaco Seri in polemica con i grillini ribadisce la necessità della cassa di colmata per il completo smaltimento. Oggi possiamo prelevare nelle zone monitorate tutti i materiali di categoria A2 stoccabili anche in spiaggia. Secondo il Sindaco, le anticipazioni dell'ARPAM sugli esiti dei carotaggi indicano un miglioramento. Più in alto, Profilglas, abbiamo solo chiesto il ripristino della legalità. Sono le parole del Movimento 5 Stelle che dicono e negano di aver preso di mira l'azienda di Bellocchi. Andiamo sull'altra pagina del Corriere di Fano. Ecco l'agenda dei nostri interventi. Paolini, l'assessore ai lavori pubblici, ammette l'esiguità delle risorse ma presenta i lavori che partiranno a breve in vista dell'estate. La passeggiata dell'Isippo e l'area portuale di Marina Group inserite nelle opere di urbanizzazione del porto. Ripartiranno le asfaltature invece e riguarderanno le strade vicino all'ospedale e alcune vie delle colline. Rocca Manatestiana, bando per la gestione, mentre più sotto la gente che si lamenta per la chiusura dei cancelli, dei passeggi, la rabbia dei fanesi, siete più svelti a fare le multe che ad aprire i cancelli. Questo è il cartello che è stato affisso in un ingresso dei passeggi che lo abbiamo ricordato è il polmone verde, così lo abbiamo quasi sempre definito, il polmone verde della città. E' lecita interferenza dei sindaci, Isola del Piano per il Tar non possono intervenire sulle questioni organizzative della sanità. Poi da Mondolfo, esclusi dalla Notte Rosa, lavoriamo per partecipare l'assessore Silvestri. Dopo i rilievi della minoranza, gli uffici adesso si sono attivati. E a Marotta ha deciso di farle partire la sua campagna elettorale Federico Taleica, il sindaco di Mondavio, che ha elencato ieri gli obiettivi e i suoi impegni. Da Senigallia, sempre sul Corriere Adriatico, estate sicura, il comune assume 10 vigili, pattuglie sul lungomare a partire da maggio, postazione raddoppiata a Cesano e turni notturni. Da Pesaro, il messaggero, finanza, boom del lavoro nero, le indagini delle fiamme gialle rivelano un balzo del 300% di irregolarità. Disoccupati con auto potenti, nullatenenti con piscine, benzinai furbetti del prezzo, cioè quelli che scrivevano un prezzo, ma poi ne applicavano un altro. Sorpresa, un capriolo a passeggio in via Cecchia. Pesaro non è la prima volta che avvengono simili avvistamenti in città. La fotografia è per l'emergenza del fiume Foglia. Si allarga la foce, la foce del fiume è intasata. L'intervento urgente permetterà di allargare l'imboccatura fino a 10 metri. Entriamo all'interno del giornale, le pagine del messaggero. Spacca Forza Italia, programma pronto, scintille con Ceriscioli. Il governatore dice sul rilancio economico c'è intesa. Celani, è un patto per le marche. Fratelli d'Italia indicano cicoli. Il PD mette Luca nel simbolo elettorale. Saranno tre le liste in suo sostegno. Sostegno, vertice del centrodestra oltre ai Democrat, quella dei centristi e il... Vabbè, insomma, tutta una serie di sigle e cose che lasciamo stare. Allora, finanze, il lavoro è sempre più nero, questo l'abbiamo visto in tutti e tre i quotidiani. Foce del fiume, foce del foglia, lavori entro sette giorni. Vertice in comune con la Capitaneria, provincia e Union Fiume. Si dovrà allargare per almeno 10 metri l'imboccatura. Andiamo sull'altra pagina del messaggero. Dipendenti della provincia, salvi. Resta ora il nodo dei tagli alle risorse. I sindacati dicono che va risolto il problema del mantenimento dei servizi. E il piano anti-esuberi in provincia sarà esaminato in consiglio. Chiudiamo con la pagina di Fano del messaggero. In apertura l'imposta di soggiorno non si tocca. L'assessore Carla Cecchetelli rassicura in fase d'arrivo la maratona sulla manovra economica. Domani il voto della Giunta. Trovate i soldi, i soldi mancanti per il pareggio, ma le imposte non saranno aumentate. I cento anni di Bianca. Festa con il sindaco Bianca Zandri, moglie di Enzo Berardi, il fondatore della Musica Arabita. E' madre di Alberto, vicepresidente della Fondazione Carifano e storico del carnevale che ieri ha ricevuto i saluti del sindaco Seri e dell'assessore Barnesi nella sua casa del borgo in via Cavour. E poi ancora la Profil Glass potrà ampliare la sua produzione. Lo stabilimento di Bellocchi dovrà attenersi però alle prescrizioni dell'ARPAM e a quelle del comune di Fano. Poi sui fanghi botta e risposta tra sindaco e grillini. Nel Mirino finisce ancora l'annosa questione del dragaggio del porto. E con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito. Buona giornata a tutti.